Fatti e non parole, questo è il motto che tutti noi dobbiamo perseguire, che sto perseguendo con il mio mandato quando si parla di ambiente. Più di 30 anni fa alla prima conferenza mondiale sull'ambiente si è parlato di sostenibilità, ma cos'è la sostenibilità? La sostenibilità va integrata dove? In ambiente, in economia e nella ricaduta sociale. Questa è sull'attività che stiamo portando avanti come provincia autonoma di Bolzano e io con il mio assessorato. Ma come possiamo diventare veramente sostenibili? Scopriamolo insieme con queste trasmissioni, perché alla fine l'ambiente siamo tutti noi. Sai, non vedo l'ora di fare un bel tuffo nel lago. Sì, siamo proprio fortunati noi in Alto Adige. Quando fa così caldo, in pochi chilometri possiamo rinfrescarci in uno dei tanti laghi della provincia. Sì, e sai qual è la nostra fortuna? Che in questi laghi noi ci possiamo fare il bagno. Lo sapete che i laboratori dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente e la tutela del clima controllano la qualità dei laghi balneabili durante tutta la stagione estiva grazie a complesse analisi microbiologiche e fisico-chimiche. Uno dei compiti del laboratorio biologico è eseguire il monitoraggio della qualità delle acque balneabili nella nostra provincia. Il monitoraggio viene eseguito da aprile compreso fino a settembre. Misuriamo e rileviamo diversi parametri, tra cui i parametri indicano la contaminazione fecale. Sono batteri che indicano la contaminazione fecale, sono gli scherichi accogli e le enterococchi. Inoltre preleviamo anche campioni per la misura, quindi la conta e l'identificazione dei cianobatteri. Questi indicano la balneabilità. Rileviamo però anche altri parametri quali la temperatura dell'acqua, per esempio, la temperatura dell'aria e anche la trasparenza di un lago. Tutti questi parametri ci indicano se è sicuro fare il bagno in questo lago. La qualità di un'acqua di balneazione viene valutata calcolando e osservando i risultati delle analisi degli ultimi quattro anni. Viene fatta la media, quindi attualmente valutiamo gli esiti e i risultati dal 2019 al 2022. Questi hanno dato un risultato eccellente per quanto riguarda gli indicatori di contaminazione fecale. Le analisi che abbiamo già fatto quest'anno nel 2023 hanno confermato questa eccellente qualità. I dati attuali vengono pubblicati sulle pagine ambiente della provincia di Bolzano. Il portale ambiente ha anche una mappa interattiva. Cliccando su questa mappa interattiva vediamo non solo i risultati delle ultime analisi, ma anche altre informazioni, quali la temperatura dell'acqua e altre informazioni sul lago in generale. E la cosa comoda è ovviamente che si può vedere anche da smartphone. Se dai campionamenti risulta il superamento di un valore limite, quali provvedimenti vengono adottati? Se i parametri microbiologici analizzati superano il limite, si parla di escherichia coli ed enterococchi, si parla di contaminazione fecale e se superano i limiti viene immediatamente avvisato il sindaco che poi ha il compito di emanare un divieto temporaneo di balneazione. Contemporaneamente a questo avviso vengono anche eseguite diverse analisi, diversi campionamenti in diversi siti in modo da poter scoprire l'origine della contaminazione fecale e quindi poter agire per far entrare i livelli. Invece se abbiamo un numero di cianobatteri molto elevato, che supera in questo caso un valore d'alerta, non è un valore limite, aumentiamo la frequenza dei controlli e inoltre verifichiamo la presenza di cianotossine, che è il prodotto dei cianobatteri. Se questo supera il limite, solo se questo supera il limite, viene anche in questo caso chiusa o sospesa la balneazione. Cosa sono i cianobatteri e perché è importante monitorarne la presenza nelle acque di balneazione? I cianobatteri sono organismi microscopici, vivono in acque dolci, anche salate e se ci sono temperature elevate o anche concentrazioni alte di fosforo, allora possono proliferare e causare delle fioriture algali. Se abbiamo queste fioriture algali, possono causare una colorazione dell'ago dal verde fino al rosso e ovviamente anche la torbidità dell'ago aumenta. Alcuni di questi cianobatteri possono produrre delle cianotossine, che possono causare delle irritazioni cutanee, soprattutto in soggetti molto sensibili come i bambini e le concentrazioni sui cianobatteri sono comunque disponibili online sulle nostre pagine web. Quali misure vengono intraprese per mantenere una buona qualità ecologica dei laghi? Per mantenere lo stato ecologico buono dei nostri laghi e anche l'elevata qualità balneabile, abbiamo diverse misure di risanamento nei nostri laghi. Una di queste è per esempio lo sfalcio delle macrofitte di queste piante acquatiche. Queste vengono asportate e quindi anche vengono tolte le sostanze nutritive dal ecosistema lago. Un altro effetto positivo ovviamente anche che non danno più fastidio ai bagnanti. Altre misure di risanamento sono per esempio l'ossigenazione del lago piccolo di Monticolo oppure anche l'asporto di acque molto ricche di nutrienti dal lago grande di Monticolo. Ciascuno di noi può contribuire a mantenere una buona qualità dell'acqua dei laghi balneabili? Tutti possiamo sostenere e garantire la qualità dei nostri laghi balneabili tenendo un comportamento responsabile. Un esempio è la gestione delle acque reflu e delle acque piovane che non devono mai finire in un lago né direttamente né indirettamente in modo che le sostanze nutritive non aumentino nel lago stesso. Anche la concimazione dei prati vicino ai nostri laghi dovrebbe non essere eseguita quindi non si dovrebbe concimare i prati perché con la pioggia queste sostanze nutritive verrebbero direttamente dilavate nella nostra acqua. Un altro comportamento responsabile che ognuno di noi può tenere è rispettare le aree di tutela dove c'è un divieto di balneazione per motivi appunto di tutela dell'ambiente. tutela i laghi uno straordinario patrimonio naturalistico Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!